Nella cronaca delle storie umane, emergono narrativi straordinari che sfidano le convenzioni e aprono finestre su esperienze uniche. Esploriamo il contesto dei giovani genitori, individui che, sfidando le aspettative, affrontano le responsabilità della genitorialità in giovane età. Queste storie C conducono attraverso un intricato percorso, dove la normalità quotidiana si intreccia con la complessità di crescere improvvisamente un figlio. Iniziamo subito. Alfie Patton, un ragazzo britannico di soli 13 anni, divenne il centro di un intenso dibattito mediatico a causa di presunti fatti legati alla sua paternità. La notizia iniziale sostenne che Alfie fosse il padre di una bambina nata da Chantelle Stedman, anch'essa adolescente di 15 anni. La situazione sollevò domande sulla giovanissima paternità e portò a una vasta copertura mediatica. Alfie, si è preso tutte le responsabilità di genitore nonostante la sua giovane età, non si è tirato indietro fino a quando la storia prese una svolta significativa, quando, in seguito a test del DNA, si scoprì che Alfie Patton non era il padre biologico della bambina. Il vero genitore risultò essere Tyler Barker, un ragazzo di 14 anni. Questa correzione fece emergere un problema di precisione nell'informazione diffusa dai media, sottolineando la necessità di una verifica accurata prima della divulgazione di notizie sensazionalistiche. La vicenda di Alfie Patton mise in luce le sfide associate alla salute sessuale e riproduttiva tra i giovani, portando a un dibattito più ampio sulla necessità di un'educazione sessuale e accessibile nelle scuole. Questo episodio ha avuto un impatto significativo sulla percezione pubblica delle questioni legate alla giovanissima paternità. Lina Marcella Medina Vasquez, nata nel 1933 in un piccolo villaggio peruano, è entrata a far parte della storia, come la madre più giovane mai confermata. Nel 1939, a soli cinque anni, ha dato alla luce un bambino, suscitando sconcerto e incredulità in tutto il mondo. La sua storia affonda le radici in una realtà socio-economica difficile, caratterizzata dalla povertà e dalla mancanza di accesso a risorse mediche. La gravidanza di Lina è stata scoperta quando i genitori l'hanno portata in ospedale per dolori addominali, pensando inizialmente si trattasse di una patologia. La rivelazione di una gravidanza a così giovane età ha scosso la comunità e ha sollevato interrogativi sulla salute, sulle condizioni di vita e sulle circostanze eccezionali di questo caso. Le circostanze esatte della gravidanza di Lina rimangono avvolte nel mistero. Il padre del bambino non è mai stato identificato ufficialmente. E le spiegazioni su come una bambina così giovane abbia potuto concepire sono state oggetto di speculazioni e dibattiti. Alcuni hanno ipotizzato malformazioni genetiche, mentre altri hanno suggerito cause mediche rare. La vicenda di Lina Vaskets suscitò una forte attenzione mediatica e scientifica. I medici che seguirono il caso rimasero perplessi di fronte a una situazione così eccezionale, cercando di comprendere il corpo di una bambina così giovane. Oltre 80 anni dopo, la storia di Lina Marcella Medina Vaskets continua a suscitare interesse e domande, rimanendo un capitolo straordinario e controverso nella storia della maternità. Prima di andare avanti, non dimenticare di lasciare un commento per supportare il canale, per me è sempre molto importante. E non dimenticarti di lasciare like, iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perderti i prossimi video. Tressa Middleton Tressa Middleton è diventata madre a soli 12 anni, attirando l'attenzione mediatica. La sua storia è emersa nel 2006, quando ha dato alla luce una bambina in Scozia. Tressa ebbe un'infanzia difficile. Quando aveva soltanto 7 anni, in quel periodo sua madre, Tracy Tullons, abusava di alcol e droghe e non era responsabile nei confronti dei figli. Ovviamente tutto questo ha contribuito alla poca tutela di Tressa e tutto andò avanti per 4 anni, fino a quando non scoprì di essere incinta. All'epoca aveva solo 11 anni e tanta paura di rivelare a sua madre quanto accaduto. Informò sua zia di quanto accaduto, senza mai rivelare il responsabile, limitandosi a dire che era frutto di un legame con un suo amico, in un momento di insicurezza dovuto alla sua situazione. Successivamente, quando anche la madre di Tressa venne a conoscenza della situazione, dopo un primo momento di rabbia, aiutò la figlia nella gravidanza. La bimba nacque nel 2006. Le foto di Tressa Middleton, soprannominata la mamma pig giovane d'Inghilterra, fecero il giro del mondo. Due anni dopo, confidandosi con un amico e un assistente sociale, rivelò l'identità del padre di sua figlia. Tressa oggi vive una vita più serena e felice e ha scritto anche un libro dove racconta la sua storia nei dettagli. Kordaiza Zeleskova Nel racconto straordinario della giovane Kordaiza Zeleskova si dipinge un quadro unico di coraggio e responsabilità. Quando Kordaiza rimase incinta di Gelyosko Kmitrov a soli undici anni, il mondo si trovò di fronte a una storia tanto sorprendente quanto complessa. La coppia, di fronte alle sfide straordinarie che la vita aveva loro riservato, fece la decisione audace di sposarsi, affrontando così la realtà della genitorialità imminente. Il giorno delle loro nozze, un evento già di per sé straordinario, Kordaiza, vestita ancora nel suo abito da sposa, si trovò ad affrontare l'inizio del travaglio. In un susseguirsi di eventi unici, fu trasportata d'urgenza in ospedale, dove diede alla luce una bambina e le diede il nome di Violeta. La decisione di sposarsi in una situazione così unica aggiunge un elemento di responsabilità e impegno, mentre il fatto di entrare in travaglio nel giorno stesso del matrimonio conferisce un simbolismo straordinario a questa storia di crescita improvvisa. Kordaiza, attraverso la sua dichiarazione postparto, rivelò il suo impegno a dedicarsi completamente alla cura della neonata Violeta, rinunciando ai giochi e abbracciando il ruolo di madre con una maturità e una forza straordinarie. In questo racconto emergono temi di resilienza, amore e crescita in circostanze eccezionali. Alessia Gregson La storia di Alessia Gregson, una giovane ragazza inglese, rappresenta un caso straordinario che ha catturato l'attenzione del pubblico. A soli 12 anni, ha affrontato una gravidanza mantenendo il segreto per nove mesi, temendo il disappunto dei genitori. Il momento del parto è avvenuto in casa, con l'assistenza preziosa del fratello maggiore di Alessia, Ryan, che all'epoca aveva solo 17 anni. E così la ragazza ha dato alla luce suo figlio, Louis, libre, sul tappeto del salotto. Successivamente è arrivata un'ambulanza e l'equipaggio ha tagliato il cordone ombelicale. Tuttavia, la narrazione prende una svolta inaspettata quando, a soli 10 mesi dal primo parto, Alessia ha deciso di presentare il bambino alla famiglia del suo fidanzato. Durante questo incontro, la giovane ha scelto di rimanere a dormire a casa del fidanzato, dando vita a una situazione straordinaria, una seconda gravidanza. A soli 14 anni, Alessia ha dato alla luce il suo secondo figlio, emergendo così come la madre di due bambini non gemelli, stabilendo un record di precocità nel Regno Unito. Attraverso questa narrazione impariamo che la vita può presentare sorprese inaspettate, ma è la forza interiore e il sostegno reciproco che possono aiutare a superare le difficoltà. La morale di questa storia è che l'amore e la determinazione possono trasformare le sfide in opportunità di crescita, fornendo un incoraggiamento universale per affrontare la vita con resilienza. Anche oggi il nostro viaggio è giunto al termine, ma non sarà l'ultimo. Non dimenticarti di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale se ti è piaciuto il video. Alla prossima avventura! Alla prossima avventura Alla prossima avventura